Incontriamo Tiziano Brignoli, ha 28 anni, è di Peia e da 4 anni ha iniziato a scrivere libri, in modo particolare libri dedicati ai presidenti americani. Il primo è infatti una biografia di John Fitzgerald Kennedy, e poi ci spiegherai meglio tu. Vorrei capire com'è iniziato tutto, come ti sei un po' scoperto scrittore. Io dico sempre che sono stato un po' scrittore, perché anche quando ero adolescente, intorno ai 20 anni, mi piaceva scrivere nel mio diario, scrivere vari appunti della mia vita, scrivere di argomenti che mi piacevano, piccoli, saggi brevi. Mi sono sempre sentito scrittore, però non ho mai pensato di scrivere un libro, finché a un certo punto, intorno ai 23 anni, mi è venuta questa idea, ho cominciato a pensare, mi piacerebbe fra qualche anno provare a scrivere un libro, e se avessi scritto quel libro lì, sarebbe stato su John F. Kennedy, perché è sempre stata una passione per me, da un punto di vista proprio umano, non solo politico, mi è sempre piaciuta la sua retorica, la sua vita, il suo rapporto con Jacqueline, però ho sempre pensato, lo farò da grande, non adesso. A un certo punto però, parlando anche con altri amici scrittori, è nata proprio in me questa voglia travolgente di scrivere un libro, e ho incominciato un po' a studiare l'argomento in modo approfondito, ho letto circa 40 biografie in un anno, più o meno su John F. Kennedy, ho letto, ho spulciato migliaia di documenti negli archivi nazionali americani, ho contattato librerie presidenziali, biblioteche locali, amici della famiglia Kennedy, e pian piano ho incominciato a creare una prima stesura del libro, e in questo libro, che si intitola Jack Kennedy, il ritratto privato di un mito moderno, non volevo, non ho voluto tanto parlare della politica, perché di libri comunque politici su Kennedy, ce ne sono tantissimi, ma volevo far conoscere di più l'uomo, la sua personalità e di come il suo carattere, la sua vita, definisse molto la sua politica, infatti John F. Kennedy era un uomo molto socievole, molto alla mano, molto colloquiale, era un grande padre, aveva un rapporto molto turbolento con Jacqueline, nonostante, durante le mie ricerche ho scoperto che il loro rapporto, la loro relazione, era molto intensa, turbolenta, ma intensa, volevo parlare di questa cosa, per dare una visione più intima, più introspettiva, di un presidente che è molto conosciuto da un punto di vista politico, ma ancora troppo poco da un punto di vista umano. Ce l'hai detto tu, scrivere una biografia significa dover consultare tanto materiale, materiale, c'è qualche documento inedito che hai potuto trovare e che poi è finito in qualche modo nel libro? Sì, durante i mesi di ricerca una parte fondamentale del lavoro è stato proprio cercare documenti all'interno degli archivi nazionali, molti di questi riguardavano lettere di famiglia, lettere di lavoro, lettere scolastiche, e nel momento in cui le ho trovate, le ho lette, sono subito stato attratto da queste lettere perché ho capito che davano una visione veramente intima del protagonista del libro, e allora ho scelto di, ho contattato la JFK Library, che me le ha fornite, e mi hanno detto che non erano mai state pubblicate, grazie alle loro fonti sapevano che non erano mai state pubblicate, e ho deciso di inserirli nel libro, all'interno della narrativa del libro, per dare una visione appunto più familiare, più introspettiva. Inoltre, contattando sempre la JFK Library, che è la libreria presidenziale di John F. Kennedy a Boston, la Fondazione Kennedy mi ha fornito queste lettere scritte da Jacqueline Kennedy durante la campagna del 1960, lettere che venivano pubblicate in una rivista intitolata The Campaign Wife, dove Jacqueline, come moglie del candidato alla presidenza, si raccontava però come mamma, come moglie, come donna americana, raccontava del suo fare shopping, dell'andare, del suo rapporto con John nella vita di tutti i giorni, l'essere una mamma, l'accudire i figli, il tutto per dare una visione più familiare di un presidente, meno assettica. Infatti questa è stata sempre una grande strategia promozionale di John F. Kennedy, ossia riuscire a raccontare se stesso come uomo e non solo come politico, ed è stata una cosa per l'epoca assolutamente innovativa, che poi, nell'epoca più recente, hanno fatto proprio a moltissimi altri politici e presidenti. Per questo libro hai avuto anche la possibilità di intervistare persone che hanno conosciuto di persona a Kennedy? Sì, assolutamente. L'ho conosciuto grazie a vari contatti, ad esempio con scrittori americani che hanno scritto su Kennedy o appunto contattando la John F. Kennedy Library. e ho parlato con queste persone perché volevo creare un editoriale, una sorta di tributo a John F. Kennedy. E queste persone mi hanno raccontato i loro ricordi di Kennedy, quando l'hanno conosciuto o che hanno partecipato a eventi della sua campagna elettorale. Ad esempio questa donna che si chiama Carol mi ha raccontato che quando aveva 13 anni l'ha conosciuto durante un evento elettorale e indossava una spilla che diceva se avesse 21 anni, perché all'epoca si votava quando si aveva 21 anni in America, avrei votato per Kennedy e mi ha ricordato che applaudì a Kennedy sventolando la sua mano e lui la salutò a sua volta e qua cito le sue parole e disse era veramente affascinante e i suoi capelli sembravano come il bronzo al sole, splendivano come il bronzo al sole. Sono ricordi veramente affascinanti ed è importante preservare questi ricordi per far sì che non vadano persi. L'epoca Kennedy è stata un'epoca veramente dipinta sulle tinte più dorate, più affascinanti. Kennedy infatti appariva sulle riviste più patinate dell'epoca come Life, Lifetime, era veramente un personaggio non solo politico ma soprattutto culturale ed è questa secondo me l'immagine che dobbiamo preservare di Kennedy. Ha significato tanto per moltissime persone, appunto non solo per la propria politica, per la propria retorica, per l'idea della nuova frontiera, ma anche e soprattutto per l'immagine che dava di sé, per la spinta che dava all'America. Dopo Kennedy ti sei dedicato ad altri due presidenti americani che hanno lo stesso cognome, sono padre e figlio. Stiamo parlando dei Bush e il libro infatti si intitola i Bush è l'espressione del carattere. Si è passato da un presidente democratico a due presidenti repubblicani, figure diverse, si parla anche di una famiglia. Che cosa significa in questo caso scrivere una biografia? Diciamo una biografia presidenziale non è qualcosa che si può improvvisare, è qualcosa che va studiato prima ancora di scrivere le parole stesse del libro. Infatti in quei primi 3-4 mesi ho preso numerosissimi appunti su come volevo strutturare il libro capitolo per capitolo e parte per parte. Ad esempio il libro sui Bush è suddiviso in varie parti, la parte in cui George e Barbara Bush si sono conosciuti, si sono trasferiti in Texas, la parte in cui il figlio George W. Bush, che ho intitolato Un interlude in New England, è andato a studiare a Harvard e a Yale, la parte in cui hanno fatto il loro ingresso in politica e poi strutturando capitolo per capitolo e parte per parte ho incominciato a prendere varie note, vari appunti su quello che volevo inserire nel libro, ad esempio piccoli aneddoti, piccole situazioni, piccoli ricordi in base, quindi mi segnavo quello che volevo raccontare con la fonte, quindi o l'articolo o la fonte online o la pagina di un libro e una volta che avevo la struttura del libro ben definita ho incominciato poi a lavorarci capitolo per capitolo facendo appunto affidamento alle informazioni che mi sono segnato. Diciamo che prima di iniziare a scrivere le prime parole del libro ho letto circa dieci biografie e ho letto centinaia di articoli online anche da archivi o anche degli anni 60-70 per avere appunto una conoscenza solida dell'argomento per evitare quel famoso blocco dello scrittore che avviene solamente se generalmente non conosce abbastanza l'argomento, soprattutto quando si parla di un argomento biografico. Anche in questo caso, come nel libro su Kennedy, hai avuto la possibilità di contattare persone che hanno conosciuto i Bush? Sì, assolutamente. Ho contattato ad esempio amici di famiglia, amici golfisti, membri del gabinetto dell'amministrazione di George Bush Senior. Ad esempio, il capo di gabinetto di Bush Senior lo volevo contattare specificatamente per un paio di capitoli all'interno del libro e non trovando nessuna informazione online né un sito web suo, ho trovato quello che penso fosse il suo indirizzo di casa e ho scritto una lettera al computer, l'ho stampata e l'ho firmata a penna e gliel'ho spedita dimenticandomene. Perché ovviamente non sai se gli arriva, se ti risponde, soprattutto questo tipo di persone. Dopo circa due mesi mi arriva una risposta via mail, direttamente da questa persona che mi forniva la sua email privata e il suo numero di telefono per poter parlare direttamente della sua esperienza nell'amministrazione Bush e nei mesi seguenti con lui, così come con altre persone che mi hanno raccontato delle loro visite alla Casa Bianca, di cosa significava ad esempio dormire ad esempio nella Lincoln Room al secondo piano della Casa Bianca oppure dei loro ricordi giocando a golf col presidente Bush, a Cannonball Port nel Maine dove avevano la casa di vacanza. Sono tutte cose che mi hanno raccontato queste persone che ho contattato un po' grazie trovando vari contatti sui siti web, altre volte cercando i loro indirizzi di casa o numeri di telefono ed è stata una grande opportunità perché mi ha permesso di dare una visione al libro più intima, più introspettiva e più personale. Non ho raccontato le solite cose, ovviamente ho preso spunto da altri libri, da altri articoli ma ho dato anche un mio tocco personale al libro, qualcosa di appunto inedito. E tra l'altro ti è arrivato anche un ringraziamento da George W. Bush. Sì, in quel periodo in cui stavo facendo ancora delle ricerche non avevo ancora iniziato a scrivere, avevo contattato la libreria presidenziale di George W. Bush per avere informazioni su documenti da usare o se potevano indirizzarmi nel fare le mie ricerche e chiesi anche se potevo avere delle parole, se potevo intervistare, diciamo così, George W. Bush ben sapendo che sarebbe stata una cosa quasi impossibile. Anche lì, dopo circa uno o due mesi, mi arrivò un'email che mi fece assolutamente sobbalzare perché non era introdotta, non c'era scritto nulla, se non questa lettera via mail una lettera dal presidente George W. Bush indirizzata a me con un linguaggio molto colloquiale in cui mi ringraziava per la mia proposta e per... cito letteralmente il sentimento che ha trasparso dalle mie parole per la mia volontà di raccontare di lui e della sua famiglia e per il mio desiderio di scrivere un libro su questo argomento. In quel momento ne fui veramente molto orgoglioso perché fu la prima consapevolezza, la prima volta che ricevetti una lettera di questo spessore e mi fece capire anche dell'importanza del lavoro che stavo facendo e della volontà, del desiderio di scrivere una bella biografia su questo argomento, ci tenevo. A cosa stai lavorando adesso e che cosa c'è nel tuo futuro di scrittore? Nel prossimo futuro sto per pubblicare un nuovo libro di saggistica intitolato Per amore della letteratura che tratterà del mio lavoro letterario suddiviso in due parti. La prima parte su come ho lavorato sul libro di John F. Kennedy, il fare ricerche, il contattare persone in modo approfondito. La seconda parte invece saranno vari capitoli dedicati alla mia visione della letteratura, dunque il dialogo che c'è costante fra scrittore ed editore, l'importanza di leggere, l'importanza di leggere soprattutto se si vuole scrivere, come bisogna leggere per imparare a scrivere e come cosa significa la letteratura per me come persona e soprattutto come scrittore. Per il futuro mi piacerebbe inoltre lavorare su una nuova biografia presidenziale, questa volta su Reagan, un altro presidente che mi ha sempre colpito per la sua retorica, per la sua capacità di unire le persone, di creare grande entusiasmo con le sue parole, con la sua presidenza. Nuovamente non è una cosa che si improvvisa, sto incominciando a capire come trovare informazioni, chi poter contattare. Ancora non ho scritto nulla, è un progetto a cui ci sto pensando in modo scaglionato da circa due anni, però ancora non ho iniziato a scrivere nulla perché non mi sento pronto ancora. Voglio prima di scrivere questa biografia e voglio assolutamente avere una conoscenza approfondita dell'argomento per poter nuovamente scrivere la migliore biografia presidenziale che io possa scrivere.